È stato qualche giorno impegnativo, però sono contento della squadra, sono contento della compaltezza, sono contento di Attilio Fontana che è un signore, che è bravo, che è onesto, che è capace, che è competente, quindi ci aspettano cinque anni per chiudere tutto quello che abbiamo cominciato negli ultimi cinque anni a partire dall'autonomia, penso che nei prossimi giorni ci sarà la preintesa storica, la prima storica preintesa tra la Lombardia, il Veneto e lo Stato Centrale nei prossimi cinque anni bisognerà decidere come usare i soldi che rimarranno in più a disposizione dei Lombardi metto le scelte personali di chiudere, quindi gli auguro le migliori fortuna In Lombardia avete trovato in grasso un alleato? No, noi non dipendiamo dagli altri, è più di vent'anni che i Lombardi ci riconfermano la loro fiducia come peraltro i Veneti e quindi siamo forti dei risultati ottenuti, non delle divisioni altrui quindi non contiamo sugli errori altrui per vincere Il primo risultato l'abbiamo raggiunto, il primo risultato è quello di avere tutto questo entusiasmo perché io credo che sia fondamentale per ripartire con determinazione per ricominciare a governare la regione Lombardia e io dico anche questo paese, ci vuole entusiasmo, ci vuole coesione, ci vuole voglia di stare insieme ci vogliono idee comuni grazie grazie a tutti